Musica ...e' una condivisione più ampia, possibile e più ampia di quella della maggioranza, ma non è possibile più una condivisione più ampia, possibile e più ampia di quella della maggioranza, ma non è possibile venire almeno a vincere con i cittadini, perché... noi rappresentiamo cittadini che ci hanno dato un mandato! Musica ...�ו chiede un prossimo mattini... Spera di ottenere una condivisione più ampia possibile e più ampia di quella della maggioranza. Spera di ottenere una condivisione più ampia possibile e più ampia possibile. Spera di ottenere una condivisione più ampia possibile e più ampia possibile.